Ottavi di finale per la Champions Cup Open tra Tic Tac e Nautica Forza 3 Chi tra le due conquisterà il pass per i quarti, già staccato dal Madrink, vincete sui bandoleros All'undicesimo minuto il Tic Tac passa avanti, doppio passo di Eseadi che serve fare tra il numero 9 e va alla conclusione di Collo Pieno, Killotti battuto e Tic Tac in vantaggio per 1-0 sul Nautica Forza 3 La Nautica prova la reazione con Brignone, Guercio si distende e si rifugia in angolo Al ventesimo su questo rilancio di Guercio, Fada serve con questo colpo di tacco Fantastico Pia che stoppa, controlla la sfera, serve Eseadi che va alla conclusione, palla sotto l'incrocio imprendibile per Killotti e raddoppio Tic Tac E su quest'ultima occasione per la Nautica Forza 3 con Brignone che serve Littera che va alla conclusione ma trova l'opposizione di Dejana, termina la prima frazione con il Tic Tac avanti per 2-0 sulla Nautica Forza 3 parte fortissimo la Nautica Forza 3 con Littera che va alla conclusione, Neri compie un miracolo e salva il Tic Tac ancora Nautica pericolosissima, sempre con Brignone, il numero 23 si accentra, va alla conclusione, la traversa, salva il Tic Tac si rifaccia in avanti Tic Tac con questa punizione di Fada, salva Killotti poi ancora l'estremo difensore blocca la sfera al 32esimo Pia scappa via sulla fascia, il numero 7 resiste al ritorno dell'avversario va alla conclusione, palla che bacia il palo e si spegne alle spalle dei Killotti per il 3-0 Tic Tac Nautica non ci sta e prova la reazione, Littera serve Rocca che controlla la sfera, restituisce la palla a compagno che incrocia la conclusione palla alle spalle di Neri e Nautica che accorcia le distanze e ricolosissima la Nautica con questa punizione di Brignone, salva Dejana ora la Nautica ci crede davvero e parte in contropiere alla ricerca del gol che riaprirebbe definitivamente il risultato con Brignone, Madejana, salva tutta di scivolata, decisivo il numero 19 al 40esimo Brignone con questo mancino vincente riporta la Nautica a distanza di una sola lunghezza sul risultato di 3-2 la Nautica si riversa alla ricerca del pareggio lasciando spazio per il Tic Tac con Fada che controlla, lavora bene la sfera dal limite serve il compagno Pia che va alla conclusione, Killotti in tuffo, tiene vive le speranze e su quest'ultimo tentativo del Tic Tac, chiuso dalla retroguardia della Nautica a forza 3 arriva il triplice fischio del direttore di gara il Tic Tac con qualche sofferenza sul finale conquista l'accesso ai quarti termina invece l'avventura per la Nautica a forza 3 che non riesce a completare la rimonta grazie a tutti